Ed eccoci tornati qui in studio, Vincenzo Pezzella, corto milanese, questa sera a cura di Barbara Risi sempre qui su Milano All News, avete appena visto il promo, davvero vi invito a seguire questa nuova trasmissione, ma adesso sono le nove e mezza, mancano pochi secondi, alle nove e trenta e iniziamo questa nuova puntata di Gummoni Milano, oggi parliamo di, credo, una delle cose più milanesi che esistono, nel senso che Milano è patria molto probabilmente anche di un certo tipo di cabaret, parliamo quindi di comicità di cabaret e lo facciamo con un grandissimo ospite che è già venuto più di una volta qui nei nostri studi, è stato anche madrina diciamo della nostra inaugurazione e sto parlando del simpaticissimo, ma soprattutto bravissimo, Dado Tedeschi grazie Dado di essere qui con noi. Allora si nota molto l'atmosfera da nove e mezza, cioè parole che vanno insieme, occhi su più, tra l'altro non mi è suonata la sveglia, per cui io sono arrivato qui che ho ancora gli occhi cosparsi delle famose caccole del risveglio e le tolgo dopo. Il comico poi è un animale notturno, no? Sì, vai, svegliarsi a quest'ora è totalmente innaturale, che poi è una leggenda in realtà, perché poi comunque io, avendo due figli, spesso devo anticipare l'allevataggio perché loro arrivino sani e salvi a scuola e quindi c'è un po' leggenda. No, la cosa è che il comico non va a letto presto, per cui più vai avanti, figli, responsabilità e corre e quindi dormi quattro ore per notte, poi svieni, cioè ti inventi, è per quello che ogni tanto un comico entra in coma, proprio ospedale, perché dice così mi devo rilassare due settimane di fila e nessuno mi dice niente. Sono le fotografie forzate, per un comico sono in coma, benissimo. Dallo tedesco, partiamo da questa domanda perché magari non tutti ancora hanno seguito, ma comunque, insomma, Dallo sono anni che sei sulla scena milanese e non solo. Dal 90, nel 90 comincia da fare questo lavoro, poi nel 92-76 mi sono trasferito a Milano da Verona e da allora faccio danni in giro. Ecco, chi è Dallo tedesco quindi? Io, cioè i miei inviti dovresti sapere. No, chi è Dallo tedesco, non lo so neanche io, disturbo di personalità, sono un comico e un autore fondamentalmente, un comico e uno che scrive, sono queste due cose e poi anche un insegnante negli ultimi 10-12 anni, diciamo che sono uno che si muove un po' a 360 gradi nel mondo del comico e non farò squalli delle battute sui 90 gradi, cercando di vivere di questo. Una volta c'era molto più lavoro, molto più serata e quindi facevo solo il comico, poi pian piano si sono affiancate altre attività, appunto l'autorato, ma anche televisivo così e l'insegnamento in forma sia privata, cioè come lezioni private date a comici lavorando sul loro materiale, sia in forma di corsi, cioè di stage, a volte intensivi, a volte collabori con scuole e allora è più diluita la cosa, insomma sono uno che ha fatto tutto male. Datti del comico, è giusto? Datti del comico? È riduttivo? Beh, il comico è la radice, alla fine, quindi sì, io quello di cui resto orgoglioso rispetto magari a chi fa un altro lavoro, massimo rispetto e così, però diciamo che l'orgoglio personale è che non è che quando è calata la comicità live e quindi la possibilità di introiti, non sono uscito dal comico, cioè non è che ho dovuto aprire la pizzeria per dire ho fatto altre cose nell'ambito della comicità. Come ci sei entrato nel mondo del comico? Cioè non è una cosa semplice, da grande voglio fare il comico? No, sono entrato proprio, cioè nel senso, io mi scrivevo le mie cosine a Verona, mi hanno dato di recente, il rivisto dei compagni di scuola mi hanno fatto vedere i diari dove io scrivevo battute già allora, quindi era una cosa del DNA, ma io da bambino, sai che da bambino voglio fare l'austronauta e il comico, io volevo già farlo e i miei non se ne sono fatte la ragione. Io immagino l'orgoglio delle famiglie. Sì, veramente, sono morti di crepacuore tutti e due peraltro, quindi no, e poi quindi l'ho fatto, quando ho cominciato a Milano c'erano tantissime situazioni, ma soprattutto c'erano situazioni ripetitive, cioè c'erano locali dove tu potevi andare martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e lavoravi tutte le sere, perché c'era pubblico tutte le sere. Poi questa cosa è morta, è scemata e quindi ho dovuto arrangiarmi e quindi comunque siccome scrivevo bene i comici mi hanno chiesto di lavorare per loro, di scrivergli battute, pezzi, spettacoli, eccetera, e si è aperta questa finestra. Poi intorno al 2000 ho aperto un locale per un periodo, una cantinetta, però era una realizzazione di un sogno, quindi abbiamo fatto un sacco di spettacoli e così, e lì dentro ho cominciato a dire, proviamo a organizzare degli stage e a, non a insegnare, cioè insegnare sì, però diciamo a me piace sempre più il termine condividere, cioè uno ha delle cose, ha un'esperienza, si dice che la comicità, io dico sempre una battuta, dico che la comicità non si insegna, cioè pensavo che la comicità non si insegnasse, poi mi hanno fatto dei soldi per insegnarla e ho capito che la comicità si può insegnare, però in realtà è vero, cioè nel senso allora c'è sicuramente un talento. Ti faccio una domanda prima, appunto, nel senso che tutti quanti pensiamo di essere molto simpatici, no? Sì. E spesso che forse confondiamo appunto la simpatia con la comicità, che sono due cose completamente diverse. Sì, posso fare una battuta ai miei amici, che ritornano anche forse un po' più a pietà, nel senso che dicono bene, facciamolo contento, facciamo finta che abbia fatto una bella battuta. Quando è che invece uno può capire e dire no, la battuta l'ho fatta veramente e posso far ridere anche altre persone e non solo, diciamo, i parenti stretti. Quando gli amici ti guardano in compagnia e ti compatiscono, e allora tu dici no, io ce la devo fare, vi farò vedere a tutti che io quando vado sul palco... No, in realtà è un lavoro, cioè quindi in quanto lavoro necessita di una tecnica. Sì, sei quello che fa ridere tutti in compagnia, ma non basta. Anzi, molti comici, la maggior parte dei comici che conosco, cioè, fuori sono una, come si dice, sono serate depressissime. Ma non è abbostante. Sì, 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 ma neanche noi, è proprio depressione quasi, capito? Cioè, il comico è uno che ha qualcosa da dire, secondo me, e che sceglie per dirlo un linguaggio che possa essere interessante. E qual è il linguaggio interessante? quello di vedere la cosa da un punto di vista non tradizionale. Per cui, se io vedo una penna e dico questa è una penna, il comico è quello che ti dice, no, io ci vedo un missile nucleare, ma ti spiego perché è un missile nucleare. Ah, ok. E quindi è questo. La sua versione della realtà, in un certo senso. Sì, è una visione laterale delle cose, insomma. Ok. E mi stai dicendo, appunto, che dopo che hai avuto questo piccolo locale, hai cominciato a capire che si poteva muovere qualcosa. Si poteva insegnare, o quantomeno ribadisco, condividere l'esperienza che si poteva. Ma nel frattempo la comicità a Milano è cambiata tanto, cioè, da quella che era appunto la comicità del derby, o degli ozzedi, cioè, comunque, quei locali storici di Milano è un po' cambiata. E tu in questo cambiamento tu ci sei in pieno dentro però. Sì, allora, negli ultimi, ma per Milano direi gli ultimi due o tre anni. Ah, per una cosa quindi giovanissima. Quindi è una cosa giovanissima. Si è avuta l'esigenza di dire facciamo le cose in un altro modo, cioè, allora, e quindi è nato un po' il movimento stand-up. Stand-up. Che nasce a Roma, in realtà, col gruppo Satiriasi, ma il concetto poi è lo stesso, cioè, il concetto è, ci siamo stufati di comici che hanno una, televisivi in un certo modo, ci siamo stufati di certe trasmissioni, di certi circuiti, dove però la comicità è omogeneizzata. Allora, attenzione, non devi dire la parolaccia, attenzione, è meglio se questo tema non lo tocchiamo. Invece poi c'è una generazione di ragazzi che dicono no, no, ma io di queste cose ne voglio parlare, di queste cose le voglio dire. E quindi, c'è anche un pubblico che ha detto, io mi sono stufato di guardare in televisione, Zellig, Colorado, quello che è, e allora vado a vedermi su YouTube i video dei comici americani che comunque dicono più cose, e con linguaggio più libero, e più vicino a un mondo comunque giovanile. Anche se poi molti dei video che si vedono sono degli anni 90, quindi non è poi sta cosa recentissima. Però è vero, cioè, questo è, qui non si parlava di queste cose. I monologhisti come me, come Daniele Racco e così, cercavano comunque una strada, ma sempre dicendo, eh, attenzione, non devi dire le parolacce, non devi, però stai parlando di sesso. Perché poi il sesso, per esempio, è una cosa particolare, perché se ne parli con l'amico, ma magari essendo anche più volgare, dai fastidio. Cioè, nel senso, sei tollerato. Invece dai fastidio quando ne parli direttamente, cioè, quando spieghi, ma io quando faccio sesso voglio fare queste determinate cose. Ed è una cosa umana, è una cosa che riguarda tutti, però non si può dire. Invece, con la stand-up abbiamo capito che si può dire anche questo. Ecco, la stand-up, si chiama stand-up, prende quindi dagli americani come strutturata? Stand-up è comico in piedi, comico con un microfono che parla a un pubblico, senza scenografia, senza la maschera del personaggio, questo nell'accezione è molto italiana, perché poi, per esempio, in America stand-up è un po' tutto, per cui basta che ci sia il microfono e la persona che parla, poi puoi fare anche personaggio. Da noi è molto più pura in questo senso. Non c'è l'imitazione, non c'è la caricatura, non c'è... Sì, esatto, non ci sono le... non c'è caricatura di un personaggio, non c'è... Non c'è la copertina di crozza, non c'è la maschera, ecco, nel senso. La copertina di crozza è già un pochino sì, perché comunque molto spesso lui racconta cose con il suo nome e la sua faccia, quindi... E poi fa magari un personaggio per spiegarla meglio. Esatto, è questo fondamentalmente. E questo sta facendo rinascere una cosa che a Milano stava morendo, cioè il discorso di lavorare dal vivo. Perché comunque ci sono molti, come si dice, ci sono piccoli spazi che possono fare questa cosa, nel senso, visto che tu hai bisogno solo di un angolo. Cioè, noi siamo qui, adesso, a voi che vedete a casa, vi sembra una roba fantastica, quella dove siamo, in realtà è uno sgabuzzino confinante col bagno. Però... Più o meno, più o meno siamo su quei livelli. E qui, se facessi uno spettacolo, ci starebbero 15 persone. Però se ci stanno le 15 persone e io mi piazzo in un angolo, io posso farlo lo spettacolo. Mentre magari a volte con i cabaret richiede un po' un minimo di spazi diversi, di, non dico di scenografia, ma magari di movimenti fatti in un certo modo. Cioè, qui, microfono in mano e si chiacchiera, insomma. E quindi questo è bello. Come sta rispondendo a questa novità? Milano sta rispondendo, vogliamo dire, mediamente. Cioè, nel senso, ti direi bene, perché comunque ci sono tante serate belle, ci sono locali, io organizzo tra l'altro due locali, poi ve lo dico, o ve lo dico su... Io organizzo il Joy, che si trova in via Valvassori Peroni, a lunedì, che è una realtà molto bella perché è vicina all'università, alla biblioteca universitaria, c'è un auditorium, lì ci fanno parecchie cose e c'è anche questo localino che veramente terrà 40 posti quando è pieno, che sta andando molto bene. Ultimamente tirano via i tavoli per far spazio alle sedie. E poi c'è un'altra realtà che è il Biflor, che segue anche quella, che invece è in via Generale Govone, come direzione più verso via Lecertosa, dove lì è bello perché c'è sopra una pizzeria dove si mangia molto bene, peraltro, e tutto. Poi si scende, proprio come era il cabaret una volta, si scende e c'è un locale dove, appunto, comici si esibiscono con il loro spettacolo davanti a un pubblico. E la cosa bella è che questo, il Biflor, era uno storico locale di Milano negli anni 90, che era il sorpasso, non so se te lo ricordi. Ed è bello perché il sorpasso è stato uno dei primi posti a far cabaret un po' alternativo allo Zelig, e quindi riprendere in mano questa cosa a livello romantico, puramente. Prendere lo spazio, riappropriarsi dello spazio storico, che ha fatto comunque una differenza. Dicevi che, appunto, ultimamente poi hai aggiunto al tuo bucchè di offerta, diciamo, anche qua dell'insegnante. Sì. Com'è insegnare a far ridere? Cioè, non è... Allora, allora, intanto è molto... Ci deve essere una base, oppure chiunque di noi può imparare a diventarlo con una tecnica? Allora, ti dico, a livello di aneddoto mi viene da dirti che gli allievi sono molto migliorati anche grazie allo stand-up. Cioè, io prima avevo gente che veniva e diceva, ma col tuo diplomino posso andare a fare il provino a Zelig a Colorado? No, dico, è la cosa più sbagliata che puoi fare. Perché comunque, invece, adesso trovo più allievi che vengono e che sono... Io devo dire delle cose, voglio dirle in modo comico. Proprio consapevoli di... Sento che magari vanno anche già sul palco, però dicono, sento che mi mancano magari degli strumenti, sento che le cose non vanno precisamente come devono andare o come io vorrei comunicarle. E lavorando insieme questa cosa si trova. A me piacciono molto i corsi in cui c'è gente che non gliene frega niente della comicità. Cioè, no, non gliene frega niente di farlo diventare un lavoro o anche un'attività. Cioè, è come, voglio dire, tutti noi facciamo dei corsi. Mio figlio che va a calcio, sì, spera di diventare un calciatore, ma perché c'ha otto anni, quindi voglio... Ah sì, sì, io ho fatto... In realtà ce n'ha dieci, no? Sennò poi mi ascoltano e mi diceva, ha detto che tuo figlio... Ma era un esempio, cioè nel senso non ha un'età per dire faccio il calciatore di professione. Lo fa perché va a divertire. Io ho fatto un corso di volo sul simulatore, ma non credo che mi daranno mai un Boeing in mano. Esatto, cioè io potrei smettere di volare in quel momento lì, esatto, in cui so che tu hai un... perché potrebbe essere attivo o passivo. Cioè, sono lì e tu vieni da sinistra anziché da destra e c'è un impatto mortale. No, io potrei fare un corso di danza africana. Cioè, corsi che facciamo perché ci rilassano, perché ci danno qualcosa. C'è molta gente che è curiosa del comico, del mondo del comico, che vuole capire perché ride, vuole capire come... a volte anche capire come ridere nel mondo quotidiano. Io quest'anno insegno con l'Accademia del Comico, perché c'è anche una scuola ufficiale, un po' in tutta Italia, che a Milano è seguita da Claudio Zucca, che ha fatto il corso ed è contento perché adesso riesce a piazzare molto più tonno. Cioè, fa il rappresentante di tonno. Però ha trovato un modo di relazionarsi con i fornitori, con i clienti, con le cose, per cui ha trovato una chiave per proporsi in modo più positivo. Io ho fatto la canela del comico, adesso vendo molto più tonno. È chiaro che non è uno slogan che viene molto sbandierato, però voglio dire. Insomma, in questo momento si fa molto di coaching, di team building, così, effettivamente forse appunto in un'azienda, se si ridesse magari un po' di più, magari si lavorerebbe anche meglio. Sì, 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 ma io credo sia anche un benessere personale. Noi passiamo le giornate, dico una parola, ho promesso che ne dicevo una sola, quindi passiamo le giornate con i coglioni girati. Da quando ci svegliamo, perché ci fa incazzare tutto, una cosa, l'altra, l'altra. Riuscire ad aprirsi questa sorta di visione laterale e a capire anche chi siamo noi comicamente, cioè se siamo più burloni, più clown, più da battuta sottile. Veramente aiuta comunque a conoscerci meglio e quindi a farci vivere meglio il quotidiano, cioè non c'è solo la questione palco. Infatti è molto interessante appunto questa visione, quindi tu dici mi piacciono molto gli alunni che arrivano magari dove appunto non vogliono far diventare una professione, ma quasi sì, vogliono un po' più scoprire loro. Sì, e poi quando fanno gli esercizi io faccio scrivere moltissimo e in un quarto d'ora, hai un quarto d'ora di tempo, devi buttarmi giù delle cose comiche e molto spesso lo fanno meglio di quelli che vogliono fare i comici, perché se io voglio fare il comico magari ho un po' la furbizia, cioè ho visto tanti comici e allora uso quel trucchetto che bene o male, mentre loro, gli altri sono vergini, capito? Cioè sono persone che vengono lì, scrivono delle cose pensando che siano divertenti, a volte sono tragiche, però molte volte sono divertenti in modo più. Come fai a dirgli che sono tragiche? Qual era il metodo? Guarda, quando uno fa un corso bisogna sempre essere positivi, bisogna dire, poi visto che siamo in un corso di comicità, allora scatto ovviamente la presa in giro, cioè questo pezzo potrebbe sostituire delle torture a Guantanamo, e capisco, voglio dire, però dico anche sempre una cosa, come io come metodo non spiego mai niente prima, faccio fare l'esercizio e dopo spiego in base all'esercizio, dico ragazzi, più sbagliate, più mi date nutrimento per dirvi delle cose, quindi tutto sommato la cosa di sbagliare è positiva nell'ambito di un corso, ed è il momento in cui bisogna sbagliare. Beh, è interessante, hai qualche appuntamento prossimo, qualche corso, qualche... Allora, io ho un corso che farò il 26 e il 27 di novembre, che lo sta seguendo Clara Campi, per cui se voi le chiedete, intanto se date il like alla pagina lei è contenta, vive per questa cosa, quindi mettetele il like alla pagina e poi potete contattarla su Clara Campi privato, le scrivete e le dite mi interessa il corso di Dado Tedeschi, potrei farlo io direttamente, però fa più figo se c'è un'altra persona che se ne occupa. Dopodiché invece se comunque qualcuno ti vuole contattare anche peraltro, tu su Facebook ci sei? No, lì si può chiedere poi sulla mia pagina, non la pagina, io dico sempre la pagina, ma è il mio profilo privato, Dado Tedeschi, Dado Tedeschi e vi beccate tutto, cioè vi beccate il bello, vi beccate quando sono depresso, quando alla sera, perché poi la depressione, di cui purtroppo ho sofferto, però comunque ti prende di più verso la sera. A noi stiamo avendo delle foto di Dado all'opera. Sì, prese credo proprio dalla mia parte, ecco qui è stato il ritorno a Zelig, perché fa un po' ridere, perché sono tornato a Zelig dopo 16 anni, perché io dal vivo, perché per me Zelig ha 18 anni, quindi insomma... Sì, no, ma io non ho mai fatto Zelig in televisione, a me interessava fare il locale, perché io ho una dimensione live, e quindi sono tornato dopo 16 anni e la cosa bella, stupenda, meravigliosa, è che questa cosa non se l'è cagata nessuno, cioè il pubblico c'era, la sala era piena, è stata una serata bellissima, ma non c'era un addetto ai lavori, non c'era un autore, non c'era... cioè proprio come fossi stato in un altro posto qualsiasi, è stata una soddisfazione personale, perché? Perché ho messo la foto sulla immagine di copertina di Facebook. Ah, ecco, ok. No, dicevo questa cosa seria ma velocissima, cioè... purtroppo Facebook è una sorta di specchio, può essere positivo, può essere negativo, per cui se venite sulla mia pagina, io vi avviso, vi aspettano un sacco di battute divertenti, ma poi mi beccate la sera sbagliata, in cui vado a dormire in depressione, e vedrete, cioè sotto mettete, se leggete la battuta, la cosa fanno otto cani, un canotto, battuta più belle di questa, e sopra mettete, penso che la vita non abbia senso e sia proiettata verso il nulla, cioè vi beccate veramente uno schizofrenico in diretta, questo è il motivo per mettere il mio piede in diretta. Beh, anche una fatica di stimolante, diciamo, come motivazione, insomma, è una pagina dinamica. Esatto, sono contento perché stimolante si apre a un doppio significato, quindi il fatto che tu dica dinamica già sposta un po' la tensione, è anche stimolante, effettivamente, insomma, avete problemi personali di evacuazione, cioè con la pagina sicuramente. Profilo, devo ricordarmi il profilo, perché la pagina è un'altra cosa, ma io sono anziano. Profilo, va bene, ma tanto tu devi farci ridere, come dice, no, come si dice, il comico quello è, appunto, la domanda che volevo farti è questo, il far ridere è il fine ultimo del comico? È il fine primo del comico, cioè se tu fai ridere sei un comico, poi puoi essere un comico scadente, un comico bravo, un comico, ma devi far ridere, cioè poi magari nel movimento stand-up ti facciamo ridere tra te, interlocutore, a casa, con più contenuti, cioè cerchiamo di dire delle cose, cerchiamo di raccontarti un po' la vita intorno a te, non solo a livello di satira, ma anche intorno a te, dentro di te, cioè anche ti raccontiamo il malessere, che è questo di dire, no, 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 ma la comicità non deve far pensare, no, è con la comicità che si comincia a pensare, secondo me, insomma. Quindi, però, se smetti di far ridere, sei un predicatore, non sei più un comico, quindi il comico deve far ridere. Se uno volesse avvicinarsi appunto al mondo, da cosa può iniziare anche come, non so, come nomi, come comici un po' da seguire anche così da, oltre allo tedesco ovviamente. Ma guarda, c'è di tutto, cioè per seguire comicità, adesso veramente YouTube ha spalancato dei mondi, cioè, e dove andate, dove digitate stand-up? Ecco, ci diamo di questa cosa, ti dico una cosa, ieri parlavamo di uno sport poco conosciuto, che è l'Ultimate Frisbee, non so se ne hai mai sentito nominare. Appunto, abbiamo dato indicazioni ad andare a cercare su YouTube così, tantissima gente ci ha scritto ringraziando perché ha scoperto un mondo nuovo, semplicemente dandogli due parole chiavi da cercare su YouTube. Appunto, cosa si può trovare? Guarda, una cosa semplice, molto semplice che si può fare, a parte, vabbè, se voi digitate stand-up su Google, stand-up Milano, trovate un sacco di appuntamenti da andare a vedere, eccetera, eccetera. Ma c'è una pagina, questa è proprio una pagina, che si chiama Stand-up Comedy Italia, dove quasi ogni giorno viene pubblicata una battuta di un comico americano con il nome del comico. Partite da lì e andate a vedervi video di quei comici. Ce ne sono molti di sottotitolati, ma poi in realtà la nuova generazione parla tutta inglese normalmente, e questa è una cosa che io invidio profondamente. Vi dicevi a proposito prima, fuori onda, che ci sono invece due comici, due, assolutamente, a Milano che fanno invece stand-up in inglese, ma in realtà che puoi seguire anche se non sei bene in inglese, vi dicevi. Sì, non a Milano, un po' in giro, però anche a Milano se capita. Guarda, io mi ricordo solo un nome, l'altro l'ho visto ma non me lo ricordo, però mi ricordo David Shushan, che è un comico israeliano in realtà, però vive a Brescia, è già un israeliano che sceglie Brescia, non me lo spiego, però è veramente bravo perché parla in inglese ma riesce a farsi capire da me, che sono il prototipo della negazione, cioè io sono the pennies on the table e mi fermo lì, capito? E pronuncio anche male table, Clara Campi che è madrelingua inglese più o meno. No, devi dire così, devi fare questa cosa. E riescono appunto a fare un viceversa spettacolo in un inglese anche però... Però comprensibile, quindi non ti perdi, cioè noi, oh cazzo, adesso mi devo sentire l'inglese, no, ascolti... Ad esempio la comicità è uguale, cioè la comicità di un israeliano può essere uguale alla comicità di un milanese, cioè mi viene già da pensare che la comicità di un milanese può essere uguale alla comicità di un romano, è già solo questo. Ma guarda, no, c'è molta più differenza paradossalmente tra la comicità nelle regioni italiane, che dà la comicità tra un milanese, un americano, un inglese, che... Siamo un po' anglosassoni qua su? Forse siamo, sì, un po' più europeisti, un po' più mondiali, io qui ho imparato, proprio qui quando ho fatto la sera, ho imparato il termine glocal, che sostanzialmente, come me lo insegni tu, cioè essere sul posto però con una visione mondiale. Globale, sì. E che io ho tradotto con siccome non hai i soldi per andare in giro per il mondo, tu stai a Milano, questo è... Però forse, ecco, Milano è già più immerso in questo tipo di realtà e quindi è abbastanza in empatia anche negativamente, cioè nel senso anche per motivi di stress, di alienazione e così via. Perché poi arriviamo agli eccessi tipo, ok facciamo la conferenza, invece di dire sentiamoci al telefono, ecco, poi siamo così aglosassoni che proprio partiamo anche su delle derive. No, più il discorso è che magari con la grande città, con la metropoli, gli stress sono quelli, le problematiche sono quelle e così. Il romano e il napoletano e anche il siciliano, per fare i tre esempi classici, guardano più alla mano. Il toscano non si tocca con la famosa... No, ma anche il toscano. C'è una famosa battuta. È che sono partito da Roma. Però sono più legati alla maschera, hanno una storia, hanno una tradizione, hanno una molta più tradizione comica rispetto a Milano. Cioè se noi pensiamo ai comici milanesi si arriva a qualche sporadica cosa. Già c'era un Walter Chiari che però non era propriamente milanese, ma era legato un po' a tutto il mondo. Poi parte un paio di personaggi tipo Tino Scotti o così. Non abbiamo il Totò, non abbiamo l'Alberto Sordi, capito? Quindi ci manca, non è un caso che per esempio Tognazzi sia quello che sia andato più all'estero poi a lavorare, oltre che a lavorare in Italia. Tu dici il Cocchi Renato e quelli erano una cosa diversa. Lì a archival comincia la tradizione milanese, però sono già gli anni 60, quasi 70, siamo fino agli anni 60, quindi mancando la tradizione ce la stiamo creando, insomma, guardando fuori. E quindi la differenza resta molto forte in Italia, insomma, in giro siamo un po' più allineati, tra virgolette. Guardo, siamo quasi in conclusione, abbiamo fatto già mezz'oretta così di chiacchiere, sono passate molto velocemente, evidentemente forse appunto funziona che facendo sorridere, facendo sorridere, facendo ridere appunto passa in fretta il tempo. Ricordiamo a questo punto come fare per contattarti nel caso appunto qualcuno volesse avvicinarsi al mondo della comicità. Allora, per quello che riguarda corsi, perché poi faccio questo, ma poi da gennaio parte il corso con l'Accademia del Comico, che invece sarà il corso che si chiama Il mio Comico, cioè è il corso dell'Accademia del Comico, però fatto in breve, fatto in cinque mesi e lo tengo io probabilmente assieme a Sonia Collini, che si occupa più della parte teatrale. Quindi, se contattate direttamente me, appunto il profilo Dado Tedeschi, vi vengono, e mi chiedete, vi vengono passate tutte le informazioni, poi arrivate, e lì io poi vi smisto, certo, nel senso, io voglio fare il corso di Tottenham, allora vai su questa cosa, però questa un po' è la cosa forse più breve che si può fare. I corsi aperti praticamente a chiunque? A chiunque, anche a livello, se tagli fuori proprio i bambini, peraltro mio figlio invece ha debuttato con un monologo a 10 anni, Ah, abbiamo un figlio d'arte? No, però l'ha fatto, ed è stato molto divertente, ma lui vuole giocare a calcio, non c'è niente. No, però per esempio io ho avuto allievi di 15-16 anni, che sono stati straordinari, e ho avuto degli allievi anziani, io riporto un caso, Franco Spediacci, che è uno che è andato in pensione, ha detto io ho sempre avuto questa cosa, la voglio fare, ha fatto un corso in una scuola dove insegnavo prima, e ha fatto due anni di corso con me, e dopo due anni lui ha tirato fuori due spettacoli teatrali, che adesso stanno girando, e il suo primo spettacolo teatrale, suo, ce l'ha avuto a, si incazza perché dico la sua età, ma ha 66 anni. Quindi non c'è, magari più vai avanti con l'età, più devi sradicare più certezze, diventa più complicato. Mi immagino anche la timidezza personale, ho pure le sicurezze personali da mettere di nuovo in discussione. Ma guarda, ma quelle poi tra l'altro ce l'ho anch'io, che ho solo 50 anni, so che tu stavi per dire che ne dimostro 35, però che ho 50 anni e mi trovo a fare molte serate di stand-up, dove l'età media dei comici è 26-27 anni, e l'età media del pubblico è intorno ai 20 anni. C'è l'imbarazzo del primo momento, salendo, cioè dire, ecco è arrivato l'anziano, il, come si dice, l'opterodattilo, però poi, anzi, la cosa proprio che mi piace è che invece io riesco a entrare in sintonia con i ragazzi, con i comico giovani, con il mondo giovane, insomma, e questo mi dà soddisfazione. Bene. Dado, io ti ringrazio davvero tantissimo, siamo in chiusura, sono le 9 e 59 minuti, quindi siamo appunto agli ultimi secondi della nostra trasmissione, ti ringrazio davvero di essere qui con noi, ti ringrazio per l'ennesima volta, sono sempre qua ringraziati, Dado, prima o poi dovrò... Prima o poi è un bonifico, cioè una volta bisognerò. dovremmo provvedere, va bene. Davvero, grazie mille, spero comunque di rivederti presto, e magari venire a uno dei tuoi corsi e imparare qualcosa da... Voi siete abbastanza comodi? Infatti, infatti, va bene. Ok, grazie. Grazie mille, Dado. Io vi ringrazio anche a voi che ci avete seguito da questa mattina dalle sette e mezza con i telegiornali e in quest'ultima mezz'ora insieme a Dado Tedeschi in Good Morning Milano. Vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17.30 con l'edizione serale dell'informazione di Milano All News e vi ricordo poi in questa edizione l'inserimento della nuova trasmissione di Barbara Risi corto milanese. Poi, personalmente, vi do appuntamento invece a lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buon weekend e a questa sera. Arrivederci. Grazie. Grazie.